ciao a tutti amici mi ritrovate nel canale allora oggi con con riprendiamo le nostre dediche o continuiamo con le nostre dediche e ho portato 5 migliettini da 5 tutti dedicati poi voglio mostrare cosa mi ha portato la bufana di mia figlia guarda che bel gattino un salvadanaio ok tutti i soldi che vinco qui dentro tanto io è una cosa che non ho mai detto però ve lo dico adesso e cioè io ho l'abitudine è un abitudine più che altro una mania mia di non cambiare mai i biglietti che vinco i biglietti che vinco io me li metto su un conto che ho apposta che mi sono false mi sono fatta la carta si salvei e lì mi metto tutti i soldi dei biglietti che vinco diciamo no e e poi li spendo diciamo è come un salvadanaio diciamo e praticamente non ho proprio l'abitudine di cambiare i biglietti quando vinco di andare a ritirare i soldi e cioè ritiro i soldi però non cambio non cambio con altri biglietti ecco questo questo particolare carissimi volevo dire oggi e vabbè mando alle sance ok vi ho detto il mio segreto e adesso passiamo alla nostra grattatina quotidiana più o meno e niente cominciamo e cominciamo col turista per sempre oggi dai allora cominciamo col turista per sempre richiesto da vinci il gratta ciao vinci il gratta non so se guardi ancora il mio canale perché da un po che me l'ha richiesto però io è un biglietto che non prendo da molto diciamo e comunque oggi non c'era niente altro ho preso questo e ho visto che avevo ancora la tua richiesta aperta e spero che mi guardi ancora comunque questo è dedicato a te non so come ti chiami vinci il gratta comunque questo biglietto è per te questo è della serie 21 numero 1 ok vediamo un po che ci dice il turista allora buona visione a tutti amici passiamo la nostra grattatina allora numeri vincenti abbiamo 41 18 16 e 40 ok primo numero 20 poi segue un turista abbiamo il 38 abbiamo il 33 ed il 25 che non c'è abbiamo 32 niente 34 niente 28 non c'è 36 neanche e 45 no allora con il numero non abbiamo fatto niente adesso vediamo un po c'è un po di ombra non capisco da dove da dove viene ma ok ok allora simboli vediamo un po abbiamo il ristorante e la vela e il sole con 200 euro poi abbiamo il cocktail e con 10 mila euro l'ombrollone niente niente vinci il gratta mi dispiace ma il biglietto non è vincente ok passiamo al tutto per tutto richiesto da francesca vedata ciao francesca qui c'è il tuo tutto per tutto serie 15 numero 4 ok ok numeri vincenti abbiamo 21 32 12 24 e 30 ok primo numero 11 11 seguo il 40 poi abbiamo il 29 ed il 27 niente poi abbiamo il 23 e c'è il 24 41 niente 16 non c'è e 35 niente niente ultima colonna 28 non ce l'abbiamo 33 neanche ah 24 l'abbiamo presa ok e il 22 le vaporelle ok vediamo un po 24 che ci dice 10 euro bene già buono 1 per 2 20 euro bene allora 20 euro caro francesca col tuo bigliettino abbiamo recuperato bene così ok adesso passiamo al biglietto di simone seve ciao simone tu volevi un altro bigliettino ma non l'ho trovato e ti forse il miliardario eh miliardario 71 51 ok il numero della lina 51 comunque è un numero che piace a me allora caro simone vediamo un po' che ci dice numeri vincenti 20 25 25 22 11 e 19 ok prima numero 34 segue 22 abbiamo preso il numero l'abbiamo 18 niente 29 niente e 35 no l'abbiamo 30 non c'è 15 non ce l'abbiamo 33 non c'è e 42 niente 44 gatti non ci sono abbiamo preso le paparelle 23 non c'è 26 neanche 46 non c'è 41 neanche e 32 niente abbiamo preso un numero caro simone che ci dicono le paparelle 5 euro bene abbiamo ripreso il bollettino comunque non è perdente bene così ok adesso passiamo alla doppia sfida richiesta richiesta da Alina Cassandro e no scusatevi non è una richiesta ma un saluto caro Alina tu volevi un saluto e io te la faccio con questo biglietto la doppia sfida da 5 serie 71 numero 49 ok ciao Alina si chiami un po' come me che a me tante volte mi chiedono Lina ma Lina mi chiamano Angela io il mio nome è proprio Lina non è un diminutivo io mi chiamo Lina, Lina, Lina e basta senza altri nomi mi chiamo Lina, Lidia e Giuliana però sono tre nomi però Lina e Lina Lidia è mia sorella e Giuliana non lo so chi è ok detto questo facciamo un'altra grattata allora numeri vincenti 32 24 49 e 27 primo numero 33 segue 31 abbiamo 37 e 35 niente abbiamo 13 niente abbiamo 26 niente 28 niente da fare e 16 anche il mio numero niente e 13 neanche 43 non c'è 36 non c'è e 23 32 all'inverso non c'è c'è 24 e vediamo un po' con gli importi Allora, 100 euro, 50 euro e 10.000 euro. 50 euro sono due, 1.000 euro e 10 euro. 10.000 euro, 20 euro e 500 euro. 20 euro sono due, 500.000 euro e 5 euro, niente carissimi, niente biglietto non vincente. Mi dispiace, mi dispiace cara Alina, Alina, cara Alina, Cassandro, mi dispiace comunque ti saluto, ti mangio un bacione e continuo a seguirmi e a richiedere. Biglietto perdente. Adesso passiamo alla richiesta di Orietta Succo. Ciao Orietta, ecco qui il tuo biglietto che tu volevi il numero 6 ma non c'era. Allora ho preso quello che c'era, che è 53 serie e numero 18. Ok. Allora, caro Orietta, passiamo alla nostra grattata. 15, 46, 24 per 10, 40. Ok. Primo numero. Abbiamo il 30 e potrebbe essere 40. Abbiamo il 38. Abbiamo 42. Niente. Abbiamo il 28, che non c'è. Ed il 26, neanche. Abbiamo il 43. Il 15. Sì, l'abbiamo preso il numero, dai. Poi il 19. 23, c'è il 24. E il 27. Niente. Abbiamo il 13. Non c'è. 36, non ce l'abbiamo. 34, neanche. C'è il 35. Il 16, niente. E il 25. Niente. Allora, con il 15 abbiamo preso. 5 euro. Bene, abbiamo ricadato il biglietto. Vabbè, cara Orietta. Comunque il biglietto non è perdente. Allora, su 5 bigliettini grattati abbiamo fatto due vuoti. Due vuoti. Allora, tre vinciti abbiamo avuto. Tre biglietti vincenti e due perdenti. Abbiamo avuto. Con il miliardario abbiamo preso, con le paparelle abbiamo preso 5 euro. Poi abbiamo preso, con il tutto per tutto, con il 24, abbiamo preso 20 euro. E 5 euro con il 15 del 20 perro. Bene, comunque possiamo essere contenti. Diciamo, abbiamo fatto qualcosina. E cioè, 20, 10, 20, 30 euro. E vabbè, ho speso 25. E ho anche 5 euro di recupero. E cioè, di vincita, voglio dire, non di quel recupero. Bene, carissimi amici. Vi saluto a tutti. Vi ringrazio per la visione. Vi raccomando, pollice in su. Continuate a seguirmi. E vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio e un abbraccio dalla Lina. Ciao, ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.